Questo video riguarda i migliori 3 videocamere di sicurezza senza fili. Il vincitore della qualità nel nostro videocamere di sicurezza senza fili va al Blink Indoor. Con un'installazione senza stress, la rilevazione di movimento personalizzabile e un'autonomia di 2 anni, non ti perderai nulla di quello che succede in casa tua. Con la tecnologia brevettata del chip di Blink, la videocamera Indoor funziona con due batterie AA litio che durano fino a 2 anni, in modo da tenere sotto controllo casa tua senza sforzo. Dai tuoi cari ai tuoi amici pelosi, Blink Indoor ti consente di vedere cosa succede usando la Live View in HD e la visione notturna a infrarossi dall'app. Usa l'audio bidirezionale per ascoltare e parlare ovunque ti trovi. Personalizza la rilevazione di movimento e le zone di privacy, così da vedere solo i movimenti che ti interessano. Non servono prese né un'installazione da parte di professionisti. Tutto quello di cui hai bisogno è già nella confezione. In più, il design senza cavi significa che puoi posizionarla, appoggiarla o fissarla ovunque. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente qui sotto nella descrizione del video. L'alternativa è i Li Home Camera. Video con risoluzione 1920x1080p lente grand'angolo con zoom digitale e 4x8 led infrarossi non visibili al buio per eccellente visione notturna non invasiva luce led di stato disattivabile via app. Notifiche push su smartphone a seguito di rilevamento attività. Telecamera di piccole dimensioni con robusto supporto inclinabile e lente estraibile, adatta a molteplici tipologie di installazione on off programmabili, accensione e spegnimento della telecamera programmabili per ogni giorno della settimana, codice PIN opzionale per accedere al live stream e alle impostazioni della telecamera wifi, parla e ascolta grazie al microfono e l'altoparlante integrati, supportate sia modalità intercom, solo una parte alla volta può parlare, che viva voce. Vedi la trasmissione in vivo della telecamera direttamente dallo schermo del tuo Echo Show con un semplice comando vocale. Possibilità di archiviare su cloud tutti i filmati registrati dalla telecamera fino a 30 giorni iscrivendosi ad uno dei piani di abbonamento mensili o annuali disponibili. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente qui sotto nella descrizione del video. Il vincitore della performance premium nel videocamere di sicurezza senza fili è il ottom 3MP PTZ. Supporto telecamera PTZ panoramica orizzontale 355 gradi e inclinazione verticale 90 gradi. Consente di guardare ogni angolo della casa. Si prega di notare che il nostro pulsante di riavvio si trova nello slot della scheda SD. Se non è possibile collegarlo per la prima volta, è necessario fare clic su questo pulsante di riavvio per 5 secondi, quindi collegarlo molto facilmente. La telecamera PTZ supporta la panoramica orizzontale di 355 gradi e l'inclinazione verticale di 90 gradi in modo da poter guardare ogni angolo della casa. Microfono e altoparlante integrati nella telecamera IP, sentiti libero di salutare gli ospiti o spaventare gli intrusi mentre non sei a casa. La visione notturna migliorata con luce a LED IR da 4 pezzi varia fino a 40 M. La luce a LED bianca da 4 pezzi arriva fino a 30 M anche in ambienti bui. Registra automaticamente su scheda SD quando questa videocamera di sicurezza Wi-Fi rileva eventuali movimenti. Slot per scheda SD esterna per una facile installazione della scheda SD, che si tratti di pioggia o sole, la nostra fotocamera per esterni soddisfa lo standard IP65 contro l'esposizione all'acqua e alla polvere, consentendo a questo prodotto di essere utilizzato nel monitoraggio interno ed esterno, come l'ambiente, garage, cortile ecc. Se ti piace il video apprezzeremmo un pollice in su o anche un commento.